Viaggio nel cuore del Marassi Judo, nella palestra di Rosario Valastro, di questo gruppo che porta avanti un'attività intensa. È ripartita una stagione che vi vedrà protagonisti con gli storici tornei, gli eventi, le manifestazioni da voi organizzate, ma anche sui tatami a partire dalla Coppa Italia che a novembre vi vedrà protagonisti. Che anno sarà Rosario Valastro? Siamo alla chiusura del quadriennio olimpico, quindi i giochi sono già fatti come classifiche nazionali e chiuderemo l'anno al top, perché con la chiusura nel mese di dicembre organizzeremo il torneo di Natale e nell'occasione organizzeremo anche i campionati italiani non vedenti. Quindi sarà ancora una chicca, il fiore all'occhiello ancora sempre di questa società. Un'attività di vertice, ma un'attività per tutti, portando avanti, come in questo caso, i valori di chi con lo sport riesce anche ad abbattere barriere importanti. La Coppa Italia a novembre è un evento che vi vedrà protagonisti con almeno 4 o 5 atleti. È un bel segnale questo, insomma, per la Liguria. Sì, il 30 di ottobre ci sarà la qualificazione, poi Genova, il Comitato regionale Ligure organizzerà la finale nazionale della Coppa Italia. Noi avremo 4 ragazzi, forse 5, se qualcuno recupera in tempo, che potrà partecipare a questa finale, dove noi, come ci è stato chiesto dal Comitato regionale, saremo una parte, un perno portante per l'organizzazione. A proposito di organizzazione, nel 2017 ritorna il Città di Colombo, appuntamento ormai nella storia del Judo e di Genova. Sì, abbiamo già fissato la data con la federazione internazionale e con la nostra federazione nazionale. Il torneo si svolgerà a Genova il 24 e il 25 di febbraio e sarà la 29esima edizione, un record. Io dico sempre, la finiamo, smettiamo, però alla fine lo facciamo sempre per i nostri ragazzi, per tutto il mondo sportivo Ligure, perché una competizione del genere non è bello abbandonarla. Però al termine del quadriennio è anche il momento in cui provare a disegnare il futuro di questa disciplina in Liguria. Rosario Valastro, che dedica veramente tante energie al Marassi Judo, ce l'ha questa voglia, Rosario Valastro, di scendere in campo e di mettersi a disposizione? Beh, io devo dire che già ai vertici della federazione ho proposto la mia candidatura, quindi è risaputo da tutti che io mi candido alla vicepresidenza del Comitato regionale, del settore Judo. A me interessa il Judo, è una disciplina che faccio da quando avevo 12 anni, quindi io non lavoro solo per il Judo Marassi. Ho sempre lavorato per tutta la regione e tanti lo sanno, ma alla fine la politica sportiva è quella che compromette anche le discipline sportive. Quindi mi auguro che chi ha senso di immagine, che voglia bene a questa disciplina, a questo sport, valuti bene la possibilità di cambiare senza offendere chi adesso gestisce. Però io penso che qualcosa in più si potrebbe fare. Di cosa ha bisogno oggi in particolare questa disciplina e le società che la portano avanti in Liguria? Beh, questa disciplina ha bisogno della promozione, cosa che in Liguria non è mai avvenuta. La promozione. Senza promozione non si va da nessuna parte. Noi attivamente portiamo il Judo nelle scuole. Lo facciamo e l'abbiamo fatto. Lo continueremo a farlo, comitato o non comitato, gestito, da me o da qualcun altro. La promozione è la cosa importante e noi dovremmo approfittarne anche adesso con la conquista delle due medaglie olimpiche perché sono state qualcosa di eccezionale anche per la nostra federazione. Mi riferisco al Judo.